il nostro prodotto principale si chiama di capere cloud ed è quello con cui abbiamo vinto il bambino incubatore nel 2012 è una piattaforma di virtualizzazione desktop web based nasce per permettere di far girare applicazioni tradizionali quindi a base windows in un ambiente totalmente web quindi moderno quindi accessibile dall'ipad da fuori sotto backup e al sicuro la nostra azienda nel tempo ha iniziato a occuparsi anche di altro oltre di capere cloud facciamo sviluppo di piattaforme ad alto contenuto tecnologico per clienti terzi sfruttando naturalmente le nostre competenze di sviluppo quindi gli sviluppatori software e facciamo anche infrastrutture server sempre sfruttando l'infrastruttura server di cui ci siamo dovuti dotare per erogare i nostri servizi in software as a service da quando siamo entrati in comunext ogni anno abbiamo raddoppiato sia personale che giro d'affari eccetera e comunext è stato centrale nel reperire tutte le risorse e tutti i primi clienti che partner la ricchezza numero uno del parco è ovviamente costituita dalle sue aziende aziende caratterizzate da una spiccata innovatività multisattoriale digitalisattoriale